vi presento mio nonno Gino un tipo in gamba che mi fa sempre tanto ridere mio nonno dovete sapere li voglio tanto bene ma a volte ha davvero la testa dura e crede di essere più furbo degli altri no ma c'è sta facendo non l'ho fatto apposta ma che figure mi hai fatto fare nonno non ci si comporta così facciamo una cosa ma ti porto io in un posto dove puoi buttare tutta questa roba seguici vedi nonno se invece di perdere tutto questo tempo fosse andato all'isola ecologica saremmo stati tutti più felici io te i miei amici bunda bash e l'ambiente che dobbiamo proteggere